Francesco divenne matto e divenne frate e divenne padre e divenne figlio e poi architetto d'amore imperfetto di arte e utopia e chi era curioso chiedeva cos'è questo sangue perché dalle mani è sangue di un figlio e di un matto e di un frate e di un padre e di un muro è signo di un figlio e di un figlio e di un figlio e di un muro Grazie. Riccardo Rossi. Le pubblicità non sono state mai più così belle. È la prima volta che vedo su grande schermo, ringrazio Arnato per avermi invitato, Federica Dalatri, chiamiamo subito anche Monica, per favore tutti quanti qua. No, operare con me un'ora e mezza? Deciditi. Buonasera, benvenuti. Allora, come avrete forse vagamente intuito, con questo clip abbiamo aperto il focus dedicato ad Alessandro Dalatri, poi più tardi vedremo il corto che aveva previsto prima. Sì, perso le tre. Ecco. Ma ve lo dico così, lo sapete, lo aspettate con calma. Putta cacca con il microfono. Pronto, ecco sì. Allora, come avete visto, ovviamente chi conosce Alessandro Dalatri sa che lui si è fatto le ossa, anzi è diventato proprio un regista importante con le pubblicità. Mi ricordo ancora l'ultimo Leone d'oro vinto con la pubblicità a Cannes per una telefonata a lunga la vita, con la direzione artistica, diciamo il copywriter era Mauro Mortaroli e l'agenzia era la testa. Lo ricordate forse Massimo Lopez che parlava? Andiamo più avanti. Andiamo più avanti sotto le luci del poliziano di te. E appunto queste sono una parte, una metà credo, delle pubblicità che tu hai girato con Alessandro. Ne ho girate dieci, la prima è stata proprio quella di Tubi Perugina, Tubiamo. Dove c'era anche una giovanissima Cristiana Capotondi. No, Claudio Aggerini. Claudio Aggerini. Poi c'era Pier Belloni che sarebbe diventato l'assistente di Pier, di Alessandro e poi in realtà aveva fatto il cast di quella pubblicità, lavorava alla Film Master, c'era Andrea Manni, insomma c'erano un sacco di persone. Pensa che io ho dormito, cioè abbiamo messo delle giorni a fare questa pubblicità, nel camerino di Peter Falk, che all'epoca girava la pubblicità, ve lo ricordate, dei supermercati Coppola? Ancora un'ultima domanda. Lo diavilo a mia moglie. Vedi, diglielo. Ah no, parlavi del cuore. Sì, quindi Alessandro appunto, poi questa era una minima parte a sua volta, ma per darci la misura anche dell'impatto che ha avuto Alessandro sulla pubblicità, queste che abbiamo visto e le altre che tu hai fatto spaziano dall'85 al 2000, se non sbaglio. Quindi avete lavorato tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo insieme, cominciando proprio appunto con Tubi Perugina. È stata una telefonata bellissima, quella quando ho vinto il provino, perché ovviamente da ragazzi non chiedi mai chi era regista, ma questo me lo dissero proprio loro. Guarda che il regista è da ladri, fatto da ladri, perché già si sapeva che Alessandro era un grande... No, di fama. Era un grande regista specializzato non solo nel fare gli spot più belli e più eleganti, ma nella direzione degli attori. E quindi quando un attore come all'epoca ancora, insomma, cercavo di fare, sapere che ci sarebbe stato uno come Alessandro a darti delle direttive, a dirti le cose come le voleva, era molto importante. Perché sai, per me quel lavoro era cominciato un po' così, come un hobby, come una cosa per arrotondare. Però le pubblicità negli anni 80 andavano molto. E quindi poi avere vicino uno come Alessandro, io gli dico che pensa, impara il linguaggio dei tubi, così gli altri non capiranno un tubo. Me l'ha fatto ridire al doppiaggio, cento volte! Cento! Perché io dicevo, impara. Avevo la picca che non mi usciva bene, capito? Lì dicevo, impara, impara. Io dicevo, impara! Troppo, troppo, in sé calabrese, mi fanno di meno. Quindi, insomma, è sempre stata una scuola con Ale. Poi da lì siamo diventati amici e ci siamo frequentati tanto. E quindi poi, anche da questa amicizia, sono arrivate le altre pubblicità o erano casualità che comunque erano... Beh, diciamo che erano delle casualità, perché, insomma, ovviamente io i provini ne facevo proprio tanti, questo è vero. Però se c'era Alessandro, capito, magari una zampata, un aiutino c'era. Però se serviva qualcuno, appunto, di comedi, come si chiamava all'epoca, anche perché io, ovviamente, ai provini ci andavo in un certo modo. Era un po' più facile, ti mettevi il gel nei capelli, ti mettevi un papillon, facevi dire che eri un esuberante. Se mi davano con le quattro battute da dire, io infiocchettavo, ne dicevo molte di più, per far vedere che, insomma, ho una situazione in mano, capito? E quindi poi, diciamo che era più facile prendermi sia per Alessandro che per il cliente. Però Alessandro non aveva diritto, quindi, comunque, di scegliere gli attori. Beh, Mazza contava molto il pieno di sangue, però sai, se il cliente diceva no, Alessandro diceva, prendete lui che ve lo dico che è bravo, lo conosco, ma non è inflazionato? Capito? Perché un po' il rischio c'era. E altri aneddoti su quest'altra pubblicità che abbiamo visto? Ma guarda, c'erano mille. La cosa divertente, guarda, questa c'è stata una cosa fantastica di produzione. Allora, quando abbiamo girato Ioplega, abbiamo girato i Pratoni del Vivaro, tra l'altro quella vecchia, quella signora, che già mi sembrava un cadavere ambulante, invece quella lì, era Gisella Matthews, che è morta da poco, centosettantenne praticamente, aveva fatto la carrozza d'oro di Jean Renoir con Anna Magnani. Capito? Ma io l'ho scoperto dopo, capito? Però, probabilmente, andiamo a girare ai Pratoni del Vivaro. E lì quella era la cosa, che ovviamente, essendo i set della pubblicità molto ricchi, proprio dei soldi, c'era sempre tantissimo da mangiare, non c'era solo il cestino, c'era la macchinetta del caffè, quella di proprio antelittera, c'erano mille cornetti, mille pezzette, mille pezzetti di formaggio, c'era un sacco da mangiare. Poi era a metà, a metà mattinata, arrivavano dei panini, tutti avvolti nella stagnola, no? E Alessandro, che ancora non avevamo cominciato a girare, mi diceva, ricchiamo, ma poi vedi oggi i panini quali sono? Io vado a vedere questi panini, c'era la stagnola, che c'è dentro? Broccoletto e salsiccia. Perché poi noi romani non ci facciamo anche a niente su queste cose. Ah, va bene, gli dico, diceva, ah, allora, broccoletto e salsiccia. Vabbè, ok, così lo sappiamo. Dopodiché vedo che è brutto il tempo oggi, è brutto. Che dice Marras, giriamo, che era il direttore della fotografia, e si guardano tra di loro? Diceva, ma non lo so, per me giriamo, eh? E dico, vale, ma scusa, ma andiamoci così domani a una compronata. Dico, zitto, stai zitto, vai, prendi i tuoi panini e metti lì nello zaino, stai zitto. Quindi faccio così, quindi andiamo avanti e Alessandro diceva, allora, montiamo i 5000, che erano queste luci mostruose davanti, fa l'inquadratura, ovviamente il cliente va a vedere il monitor, dice, vedete, ecco, abbiamo simulato la luce in pieno giorno, in pieno sole, però eravamo tutti splatteri, eravamo tutti bianchi, perché c'era la luce fortissima, stava così. Ale, c'è tra luce, non ti preoccupare, poi vediamo, stava tutte così. Poi c'era la signora Matthews che straparlava, mi diceva di tutto, a me non me ne fregava niente, sento, ma io non lo so che cosa dice, non capisco. Per cui a un certo punto arriva una, una goccia di pioggia e Alessandro gli dice subito, allora ce ne andiamo, giuriamo domani, è un peccato rovinare una giornata come potrebbe essere quella di domani, con queste deprese, con le luci brutte, va bene? Quindi noi scappiamo, va bene, allora ci diamo domani. A domani è finita, ma erano tipo le 10, non c'era successo niente. Siamo tornati a casa e ci hai preso i vanini, sì, ora ce li scattiamo a casa. Sono andato a casa, abbiamo mangiato questi vanini, ovviamente abbiamo parlato di cinema, di cose, erano, stare con Alessandro era veramente un'esperienza. Alessandro mi ha insegnato tantissime cose e ancora oggi, quando riesco a metterle in pratica, mi viene sempre in mente il momento in cui Alessandro me l'ha insegnato. Al di là, ovviamente, della direzione degli attori, quando sono riuscito a fare il mio film da regista, una cosa importante, che adesso a voi sembrano una stupidaggine, ma voi pensate che il mio primo computer, che era un Apple Macintosh, me l'ha insegnato da latri, perché io l'ho visto a casa sua, il Classic, ancora ma il System 6, rendetevi conto, e l'ho detto, ma questo è il Macintosh, sì, dell'Apple, si fa su questo, ma come? Lui mi ha fatto vedere come funzionava Microsoft Word, che era proprio agli albori, il fatto che scriveva, che stampava con la stampante Adaghi, Alessandro ce l'aveva, quindi era una cosa incredibile, mi ha aperto la testa su mille cose, e vado avanti ancora un'ora, Alessandro è stata la prima persona che mi ha detto, devi scrivere, perché io andavo ad Alessandro, anche solo per sfogarmi, non sa che mi è successo oggi, non sa che mi è successo, io lo raccontavo, e lui mi diceva, devi andare a casa e scrivermela così come me l'hai detta, io gli ho dato retta, e poi alla fine, molti anni dopo, sono riuscito a debuttare poi come attore, con i miei testi, al Teatro Sette, Faggine Rossi, che avrete comprato un libro senza meno, ancora a termine penso. Quindi non solo una collaborazione, gli devi molto anche per la tua carriera, per la tua formazione. Tantissimo, tantissimo. Intanto cominciamo a far salire, piano piano qualcuno. Sì, certo. Intanto chiamerei Federica Dalatri. Federica, vieni qua, l'ho vista nascere! Ce la fai? No, perché per me c'è sempre un mese, capito? Ecco, salutatela per bene, Federica Dalatri, dai. Io non l'ho vista nascere, però quando l'ho conosciuta, che era una bambina. Abbassanza. La Federica Dalatri ha questa foto stupenda, è nata a Los Angeles, il passaporto di Federica è così. Lo sapete che lì fanno la foto appena nasce. Ci sono le mani di Alessandro che la tengono così, e lei c'è la foto sul passaporto di Los Angeles con le mani di Alessandro. È vero, è vero. No, no, prego. No, no, dico tu, sei la seconda presenza al festival, ma la prima sul palco. È vero. Perché sei venuta, hai accompagnato Alessandro. Tante volte, no, non tantissime volte, però comunque sei venuta un po' di volte, siamo stati molto bene, sempre proiezioni. Insomma, ascoltare papà per me era un privilegio, insomma, quindi in quanto figlia, ma oltre, perché comunque spesso i figli con i genitori hanno un rapporto che va anche, no, che noia anche, no? E per me invece era comunque di ispirazione, era un piacere, ecco, poterci parlare, dialogare, ascoltarlo. Mi ritengo molto fortunata per questo. Io approfitto per salutare anche Sandro Sgrigna della prologo di Calvi, perché Alessandro era molto legato a Calvi e appunto noi stiamo facendo questo maggio che non è il primo, proprio perché il primo maggio fatto ad Alessandro dopo la scomparsa è stato proprio a Calvi la scorsa estate, tra l'altro abbiamo tutta la registrazione su YouTube, quindi il primo luglio era e appunto c'era anche Federica, c'era Monica e c'eravamo anche noi e appunto tra l'altro potete anche rivederlo. Poi c'è stato a Sansepolcro, insomma, non siamo per fortuna i soli a ricordare Alessandro, anzi, forse adesso speriamo che si incrementeranno le cose sicuramente. Sicuramente più che in vita, perché in vita invece Riccardo, lui era molto sottovalutato, soprattutto dalla critica. Ma guarda, questa è una polemica che io ho assistito, alla quale ho assistito negli anni. Alessandro non è che non godeva di buona critica, Alessandro si faceva gli affari suoi, faceva un film, era un filmmaker e faceva i film che voleva fare, questa è una cosa straordinaria e all'epoca, vi ricordo, adesso è facile avere i contratti per tre film, all'epoca no, era tutto un miracolo. Vi ricordo che Maricano Rosso, il film che vedete questa sera e che è partito benissimo perché comunque era tratto da un romanzo di Gino Pugnetti, la sceneggiatura era scritta da Enzo Monteleone, cioè ha vinto il Davide Donatella e che seguo con la stazione di Rubini. Era ovviamente una storia diversa da quella che ti potevi aspettare da un debuttante che proprio, posso dire, l'umiltà di scegliere una storia scritta da altri, la trovo invece una grande mossa. Era un film meraviglioso che ho salvato io nel finale, tra l'altro, perché Alessandro mi ha chiamato per fare il carabiniere che assisteva a Ventivoglio e sul set gli ho detto ho capito, ti salvo il film, ma io ho detto non faccia Ventivoglio. Quindi insomma questa è stata una cosa molto divertente anche quella. Però ecco appunto per cui ecco ti ho risposto. Alessandro come primo film ha scelto una storia scritta da altri e questo fa capire tanto. E forse un'altra cosa non popolare nel senso che non molti registi lo fanno però lui ha sempre fatto un lavoro tutti diversi dagli altri quindi è stato molto coraggioso anche in questo e è una cosa non popolare nel senso che tendenzialmente quando un regista magari scopre una sua cifra cerca di restare a quella. Papà ha sempre sperimentato con veramente cose tutte diverse l'una dall'altra oltre che il cinema nella tv nel teatro in moltissime cose insomma quindi anche questo poi magari è una cosa e lui diceva a me mi diceva sempre io non faccio film faccio prototipi sì perché effettivamente ogni film era un prototipo e poi lui non lo metteva in commercio come dire esatto e ne faceva un altro e quindi spaziava effettivamente e anche qui al festival noi dai giardini dell'Eden fino a in punta di piedi e no in punta di piedi era dopo insomma abbiamo visto tante storie diverse e spaziava spesso ecco uno che ci tengo a sottolineare quello che hai detto lui ha debuttato con un film uno scritto da lui a differenza di la gran parte dei registi che sentono tutti gli autori che vogliono fare una cosa mia hai capito invece gli era fare un esercizio di regia invece e anche alla fine gli ultimi suoi lavori erano fiction televisive chiaramente in televisione non c'è più di tanto l'autorialità però si è vista la differenza si è visto con i Ricciardi con i bastardi di Pizzo Falcone si è visto che cos'è un regista perché la differenza qualitativa poi delle sue fiction si è vista e si è notata e la notavano anche gli spettatori comuni non solo la gente più avvezza certo sono d'accordo è proprio così sono concordo completamente e questo secondo me è una caratteristica che io quando l'ho detto al funerale qualcuno si è anche arrabbiato ha detto lui era un regista puro nel senso che appunto non era un autore che si dirigeva da solo i suoi film no no era un regista che se li scriveva però il suo occhio era sempre quello proprio delle regista Alessandro è stato proprio un regista questa è la verità tra l'altro ti ricordo con ottimi maestri per cui tutto quello che ha visto da piccolissimo perché guardate che Alessandro era un bambino prodigio grazie alla madre cioè tua nonna ovviamente ha fatto mille volte l'attore ricordiamo il giardino dei film si continui ma ha recitato pure con Luchino Visconti che voglio trovare ancora quello che è il giardino dei ciliegi noi dicevamo sempre con lui tu hai fatto tutti i giardini il giardino dei ciliegi i giardini insomma ha visto e imparato molto e ha lavorato anche poi come attore nelle stesse pubblicità con i suoi maestri Sanni eccetera quindi voglio dire è stato veramente un regista completo sotto questo punto di vista proprio perché ha assorbito tanto e tra l'altro se andiamo a vedere i film di Luchino Visconti non è che ha fatto un film tutti uguali capito erano film con delle connotazioni storiche ma sempre di periodi diversi quindi forse non so la lezione potrebbe essere proprio quella io chiamerei a questo punto anche Monica Brancaccio sul palco eccola Monica altissimo il gradino ti aiuto che ha accompagnato le scale sono qua Monica e Monica che adesso ci introduce anche appunto la napoletanità di questa serata tra l'altro appunto Alessandro soprattutto negli ultimi anni è stato legatissimo a Napoli da appunto da poto se non sbaglio da in punta di piedi è stato l'arrivo e poi il commissario Ricciardi Bastardi di Pinzo Falcone Monica tu l'hai accompagnato grazie tu anche non sei nuova al festival perché appunto l'ultima volta che Alessandro è venuto due anni fa l'hai accompagnato due volte credo poi è tornato per San Valentino il festival Valentiniano perché poi lui restiamo sul festival non voglio aprire il nostro istituto l'ISTES organizza appunto oltre al Terni Film Festival anche il Valentine Fest che è un festival dedicato alla figura di San Valentino prima ne parlavamo con Paolo Consorti e Alessandro ci ha seguito dal 2008 a oggi è venuto praticamente tutti gli anni a Terni perché un anno veniva per il festival del cinema e un anno per il festival di San Valentino e infatti l'ultima volta siete venuti per il Valentine Fest nel 2022 infatti all'inizio non avevo neanche ben capito la divisione dei due festival perché arrivavamo dobbiamo andare ad Arnaldo vabbè andiamo ad Arnaldo cioè per qualunque cosa lui era felicissimo di venire da voi si riconosceva molto in questo festival aveva grandissima di te quindi è stato sempre un piacere venire venire da voi a proposito di Napoli che lo aveva adottato Napoli l'aveva avviluppato se l'era ingoiato però io credo anche rispetto a quello che diceva Federica prima Alessandro era tante cose cioè in realtà ha fatto veramente tanta sperimentazione si metteva alla prova ma in realtà era tante cose quindi ha scelto di farne tante o anche di vivere in una città così strampalata come Napoli perché lui in effetti aveva tanti colori era tante cose secondo me che componevano poi un'armonia bellissima però io sono di parte e quindi sì Napoli lo ha proprio abbracciato sarebbe venuto a vivere a Napoli era contento di farlo però non l'abbiamo fatto in tempo noi oggi ve lo dico anche perché appunto non è che potremmo stare qua tutta la notte come dice Riccardo quindi non è che possiamo oggi riassumere la personalità di Alessandro Dallatri ma per questo motivo noi abbiamo deciso come che ho anche detto noi non facciamo nel 2023 un omaggio ad Alessandro Dallatri noi oggi inauguriamo il Focus Dallatri che farà parte della programmazione del Terni Film Festival e ogni anno dedicheremo una serata ad Alessandro come dedichiamo la serata come facciamo il Focus Etnico il Focus Francescano e avremo il Focus Dallatri proprio perché raccontare Alessandro in una serata sola è assolutamente impossibile io volevo siccome quindi diciamo piccole cose abbiamo detto qualcosa sulla pubblicità Napoli la passione Napoli è una città è la città della passione per Antonomasia e a me una delle cose uno dei lati dei tante cose che c'è da dire su Alessandro era la passione cioè lui perché veniva in un festival peraltro allora agli esordi ma anche oggi insomma anche siamo proprio Cannes voglio dire ma quando lui è venuto dalla terza edizione eravamo piccolissimi sconosciuti è venuto qua e adesso lo vedrete perché lo vedremo e lo ascolteremo ed è stata una serata intera su questa paladena a intrattenere per la passione per la passione di un film sfortunatissimo tra l'altro che è Giardini dell'Eden e a cui spesso la gente non vuole neanche variare dei film che vanno male Riccardo invece lui era il film a cui era più legato gli voleva ancora più bene proprio perché diceva questo è un figlio che mi è venuto male nel senso che è stato sfortunato ma perché lui si vedeva nei suoi progetti punto come ha detto Riccardo in realtà lui faceva il film e tu mi confermi perché lo conosci da più tempo di me e basta cioè per lui la sua mission era portare a termine il suo progetto non che chiaramente sarebbe falso dire che se non fosse andato bene non gli interessava non è così però in realtà non era quello primario per lui lui portava a termine il progetto perché si innamorava del progetto nella sua molteplicità nel suo essere diverso da quello precedente però era il progetto bisognava portarlo a termine quindi gli voleva bene cioè spesso Riccardo i registi anche gli attori forse ancora peggio nel senso che poi l'attore è anche più distaccato ma io qui al festival tante volte ci è capitato insomma di chiamare io ho fatto anche delle figure barbine qualche volta nel senso che io ingenuamente avendo l'esperienza ad Alessandro magari vede un film che mi piaceva tanto e davo per scontato che a quel regista gli interessava pagarne come interessava ad Alessandro e poi ti accorgi che la maggior parte dei registi una volta che è finito il momento di programmazione di promozione non è così sono figli nostri sono figli nostri perché sono figli di un lavoro mostruoso che dura più di nove mesi tanto per citare capito la gestazione di un essere umano quindi praticamente sono tre anni perché comunque lo devi scrivere lo devi girare lo devi montare togliendo il tempo che ti serve per trovare i soldi a farlo quindi in realtà tu non puoi una volta che hai fatto il film l'ho abbandonato e dico una cosa il film che ho fatto io tra l'altro l'Alessandro l'ha visto prima di chiudere il montaggio glielo ho portato a casa a Piazza Mazzini e mi ha detto allora questa scena metti prima quella poi metti quell'altra con un taglio perché te prendi una risata in più quando ho sentito la risata al cinema ho detto vabbè ma questo come fa non si sa quindi glielo ho detto al montatore Walter Pasano ha detto Alessandro così boh l'ha fatto finito ti dico che quando il film è uscito io mi volevo comprare il DCP che forse non lo sapete è praticamente l'hard disk che viene confezionato per metterlo nei proiettori dei cinema che è una follia perché insomma quanto costa non serve a niente perché poi cambiano queste cose capito per cui uno quindi ho circa 100 DVD del film mio a casa tutti sigillati per cui non c'è problema ce l'ho è mio oltre su mille pennette e mille hard disk però c'è pure 100 DVD quindi ecco dal film non ci si separa no no grazie se il film viene visto come un figlio e non come un prodotto come di per campare sicuramente quando mi invidi a Terni uno lo porto un regalo al sindaco i suoi film come i figli però i film e poi come i figli quindi era proprio il confine era proprio allora a questo punto io no dimmi vorrei dire qualcosa sì volevo volevo dirti che io nella a nome anche di Gianluigi Osteri che devo dire è il promotore ogni volta ritorniamo indietro di questo volume a proposito della molteplicità di Alessandro grazie alla il motore primario di questo volume è stato Gianluigi Osteri che è seduto lì ideatore e realizzatore della Fragola Film Festival che si è felicemente gemellato con il Terni Film Festival e lui ci ha dato i mezzi per poter raccogliere le fotografie di scena fatte dalla fotografa Anna Camerlingo che ha lavorato con Alessandro negli ultimi 5-6 anni pertanto le abbiamo messe assieme sono le foto degli ultimi set sono tutti set campani più uno romano del professore che Alessandro è l'ultima serie che ha girato un professore la serie che è andata in onda due anni fa prodotta da Banigiai lei era fotografa di scena quindi abbiamo avuto anche il piacere di inserire quegli scatti e in più abbiamo chiesto alle persone che avevano avuto a che fare con lui sul set di scrivere un ricordo non solo attori abbiamo cercato di coprire un po' tutte le figure professionali mi mancava l'elettricista mi mancava qualcosa tipo l'attrezzista non ho avuto il tempo di farlo però perché bisognava per noi era importante che venisse fuori un po' l'immagine dell'uomo e quanto poi chi avrà il piacere vorrà leggere questo volume che non è in commercio quindi in realtà per il momento non è distribuibile in larga scala viene fuori quasi una coincidenza anzi no una coincidenza tra l'uomo e l'artista perché ci sono delle testimonianze di affetto fortissime per Alessandro e non solo dal grande attore quello che di solito si sente un po' più vicino al regista anche la comparsa che abbiamo coinvolto a scrivere il ricordo dice di essersi sentito importante sul set perché Alessandro faceva così dava importanza a tutti dall'attrezzista all'attore protagonista era se stesso sempre e questa cosa noi speriamo di averla messa in questo piccolo volume di ricordi e di immagini sono delle foto bellissime e ringrazio Gianluigi Osteri che ha reso possibile questo progetto e te ne faccio omaggio e poi avremo sul palco anche Gianluigi appunto perché nel nome di Alessandro facciamo anche questo gemellaggio ma per non pariare solo di Alessandro ma per pariare anche con Alessandro io vorrei anche dare la parola ad Alessandro adesso e ci vediamo una clip che racconta no racconta perché non è descrittiva e c'è solo la sua voce ed è una sintesi di questa prima serata che Alessandro ha passato su questo palco nel 2008 presentando questo figlio che quando è nato come dire era stato guardato male da tutti perché era stato massacrato da critica era uscito in due copie in tre copie è una cosa assurda e poi nel corso degli anni ci hanno fatto le tesi di laurea è stato un modello per tanti altri film I Giardini dell'Eden Cinema Fiamma come? Cinema Fiamma a Roma ricordo che è uscito sì io l'ho visto lì perché a Terni non uscì appunto perché c'erano pochissime copie e io lo vidi a Roma e era un film così geniale secondo me per tanti motivi il primo a usare il nome originale di Gesù il primo a guardare ecco oggi abbiamo parlato di Palestina il primo a raccontare Gesù dal punto di vista ebreo e dal punto di vista cristiano ma anche la pubblicità appunto tu che ci hai fatto le pubblicità il suo essere pubblicitario si vedeva anche nel genio allora io questo film l'ho scoperto vado a Roma vedendo un cartellone gigantesco in cui c'era il volto di Kim Rossi Stewart con la barba lunga così e non c'era scritto il titolo del film non c'era scritto niente c'era scritto armatevi con la R cancellata amatevi cioè genio totale allora ce lo vediamo armatevi amatevi Alessandro Dalatri ok 2.000 anni di storia sono condizionati fortemente da questa figura o perlomeno dalle interpretazioni intorno a questa figura in realtà i nove decimi sono tantissimo cioè noi conosciamo soltanto un decimo della vita di Gesù noi conosciamo i primi otto giorni dalla nascita li ritroviamo per tre giorni a dodici anni quando è un'occasione della Pasqua ebraica vanno al Tempio di Gerusalemme e lui stupisce diciamo i saggi dei sacerdoti del Tempio e poi tre anni dai 30 ai 33 fino alla diciamo alla parte fatale quindi sono su 33 anni sono 33 anni e pochi giorni in più un po' a pochino quando ho cominciato a chiedere a fonti diciamo autorevoli del cristianesimo dire ma che cosa se ne sa di questo personaggio per tutto il resto la risposta è non si sa e a me quando qualcuno mi dice che non si sa o non si può sapere o non è possibile io sono come il bambino che gli dicono non mettere le mani nella marmellata ce le vado a mettere immediatamente e quindi ho cominciato questo lavoro di ricerca e ho detto com'è possibile che non si sa cominciato a fare un lavoro straordinario secondo me di vedere quello che intanto si poteva sapere che si diceva che non si sa intanto fondamentalmente Gesù è un ebreo se mi lasciate parlare vi racconterò una storia la storia dei due fratelli e del campo di grano c'erano una volta due fratelli che si odiavano ma non immaginate a che punto non si sopportavano avevano due campi confinanti e di notte cominciarono a rubarsi i covoni l'uno con l'altro al mattino li contavano e si accorgevano che il numero dei covoni era sempre lo stesso quindi Gesù probabilmente era figlio di un rabbino e i rabbini possono fare anche degli altri lavori non è che fanno soltanto i rabbini non sono soltanto sacerdoti possono essere falegnami possono essere contadini possono essere artigiani quindi probabilmente Gesù sapendo leggere e scrivere era figlio di qualcuno che poteva essere un rabbino l'altra cosa è che Gesù conosceva almeno tre lingue se non quattro perché parlava l'aramaico che era la lingua corrente di quell'epoca l'ebraico che era la lingua delle sinagoge e o il greco o il latino la quale non le differenze il greco era come l'inglese nostro oggi era la lingua commerciale del Mediterraneo tutti i contratti che venivano stipulati nei porti del Mediterraneo erano fatti in greco il latino era la lingua degli invasori Gesù parla più di una volta nel Vangelo con soldati romani con Ponzio Pilato e si dà per certo che Ponzio Pilato non parlasse nell'aramaico o nell'ebraico quindi sicuramente voglio dire lui dialogava con questo qui ho atteso ho preso come fondamentali i quattro Vangeli perché sicuramente sono i più attendibili rispetto alla storia per esempio ho sempre detto e specificato in tutte le mie interviste conferenze stampa eccetera che gli Vangeli apocrifi non li ho trovati interessanti nel senso che erano sicuramente di fattura tardo medievale molto ispirate alla cultura popolare c'è un Gesù vendicativo insomma non li ho trovati interessanti a parte invece i Vangeli gnostici che sono due che sono il Proto Vangelo di Tommaso e il Proto Vangelo di Giacomo che se non l'avete letto ve li consiglio vivamente perché sono gli unici scritti in aramaico e sono contemporanei dell'epoca della lingua di Gesù raccontato negli evangelisti negli apostoli non è stato visto probabilmente è stato messo perché non sapevano che cos'era allora voglio dire c'è un silenzio a volte che parla come nell'alfabeto Morse la linea e il punto non sono gli unici due segni ma sono anche gli spazi i silenzi intermedi questo silenzio raccontava qualcosa se vediamo la vita di un ebreo in generale l'ebreo viene chiamato errante cioè è un viaggiatore nella cultura del popolo ebraico c'è proprio il dna del viaggiatore si sono sempre spostati e Gesù nasce in viaggio non nasce nella sua casa nasce a bettelemme in una grotta così ci raccontano comunque i vangeli poi a otto giorni è costretto a scappare in Egitto quindi un altro viaggio lo ritroviamo a dodici anni in un viaggio che sta andando al tempio di Gerusalemme e da lì riparte un'altra volta e poi dal trentesimo anno è sempre in movimento e si muove sempre nella Galilea mar morto villaggi pescatori contadini eccetera e sicuramente era uno che non amava molto le città infatti l'unica città che poi frequenta ci sarà Fatale che è Gerusalemme la metropoli dell'epoca quindi stiamo parlando di una persona che è un grande viaggiatore sicuramente uno è un grande viaggiatore e tutti noi sappiamo che cosa è un viaggio e quando torniamo da un viaggio cosa facciamo? raccontiamo alle persone che conosciamo quello che abbiamo visto raccontiamo le nostre esperienze adesso abbiamo le fotografie abbiamo i filmati facciamo vedere queste robe qui all'epoca c'era il piacere della parola del raccontare e Gesù è un grande raccontatore e per essere un grande raccontatore è storia che bisogna essere dei grandi osservatori uno che sa osservare sa raccontare bene se facciamo un'analisi delle parabole la parabola è una cosa straordinaria le parabole sono hanno delle architetture diciamo sul piano narrativo molto semplici sono basiche parlano di contadini di uva di figli o prodigi di terreni ma nello stesso tempo c'è invece un'architettura strutturale di filosofia molto alta molto complessa questo è il tipico prodotto di un osservatore di uno che sa osservare e sa raccontare e probabilmente quelle cose che lui ha raccontato le ha viste e le ha viste in viaggi quando racconta queste storie racconta storie che non sono storie di la Galilea ma sono storie di viaggi ben più ampi quindi probabilmente questo silenzio ci racconta un Gesù che il primo comandamento quando dice io sono il Signore di due due non farti falsa immagine di me in realtà noi l'abbiamo bestemmiato continuamente questo comandamento cioè gli ebrei e gli arabi sono gli unici che questo comandamento lo rispettano fedelmente perché è proibito rappresentare Dio o Maometto o i profeti e allora qual è la grande libertà è la fantasia Dio è fantasia pura e nessuno e infatti viene descritto nella Bibbia è innominabile irrappresentabile indescrivibile anche in buona fede siamo figli di tante anche involontarie bugie di traduzioni ci sono le traduzioni sbagliate e ogni volta io penso al povero cammello io sono cresciuto con questo cammello che doveva entrare nella cruna del lago e quello non era il cammello il camalos è il grande nodo che si attacca alla bitta si chiamano ancora quelli portuali di Genova si chiamano i camalli e io c'avevo padre Pasquale il mio padre che sudava quando doveva dire perché il cammello quando passa non è un cammello è un nodo più grande quindi noi siamo figli di anche tante involontarie bugie di tradizioni molte cose la cura della cataratta per esempio tra gli esseni c'è un capitolo che è emozionante si fa proprio sputandosi nelle mani prendendo la sabbia e raschiando sulla palpebra perché è una membrana che impedisce di vedere all'occhio pulisce in qualche modo l'occhio ed è quello che viene descritto ora il Gesù miracoloso a me non mi interessa a me un Gesù Silvan non me ne frega niente di vederlo un Gesù invece che mi dà una spiegazione dell'amore per il prossimo e per gli altri mi affascina molto di più grazie 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 Federica, Monica, Riccardo sul palco e insieme anche a Gianluigi Osteri della Fragola Film Festival con cui appunto quest'anno segniamo una tappa importante questa appunto è stata la prima presenza di Alessandro su questo palcoscenico il video ovviamente non era all'altezza dell'occasione forse ma a quei tempi non ci avevamo ancora Luca Mannaglioli, io vorrei fare anche un applauso per Luca che è il nostro è il nostro regista, videomaker insomma oggi stiamo mentre stiamo parlando in diretta su Youtube e su Facebook quindi ci stanno seguendo anche molte persone da casa, a quei tempi insomma le riprese erano quelle che ha fatto mio padre con la telecamera prego, prego, venite ancora un'altra ora prima di vedere il film te lo ricordo così non ti sfugge la cosa che dobbiamo dire ancora? basta buona visione presentiamo allora dai Luigi se no figure perché adesso cala l'attenzione vai grazie, grazie a tutti la verità è che Riccardo c'ha fame quindi insomma io vi ringrazio per l'ospitalità ringrazio Arnaldo per averci dato la possibilità di venire qui di fare questo ecco questo gemellaggio d'altronde cosa accomuna il festival di Terni con quello di Afragola? Alessandro Dallatri Alessandro Dallatri sarebbe stato il nostro direttore artistico e quindi d'altronde la sua grandezza si è manifestata anche dopo perché noi ci siamo conosciuti proprio al funerale e abbiamo deciso di fare questo piccolo confronto che può solamente portare crescita e poi sono io che ringrazio appunto Monica perché è lei che ha dato a noi un'opportunità quella di fare questo libro è l'opportunità di conoscere Alessandro la grandezza ho sempre detto anche a lei che è una mia cara amica lo dico anche adesso alla figlia Riccardo la grandezza di Alessandro è stata proprio quella di rivolgersi vorrei dire quasi agli ultimi no? quelli che insomma quella pietra che è scartata dagli uomini lui si girava verso l'angolo e la faceva diventare veramente una testata d'angolo lui si è girato verso un piccolo festival come il nostro la prima edizione e grazie a lui oggi possiamo fare un percorso che ci può dare sicuramente anche la nostra voce in questo campo della cinematografia e a proposito di questo gemellaggio a proposito di questo momento che abbiamo vissuto anche con Alessandro ti consegno il premio che anche lui ha avuto nella nostra prima edizione lo consegno a te come se fosse ecco uno scambio di scudetti tra le due realtà che si confrontano che crescono insieme quindi è un cammeo cerco di non fare un casino lo dedichiamo lo dedichiamo di nuovo ad Alessandro lo dedichiamo di nuovo ad Alessandro e al Termi Film Festival e ancora grazie a voi per l'ospitalità grazie a tutti grazie dall'italiana come dire ma anche temporale perché voi state proprio molto vicini sì perché il vostro finisce il 19 noi iniziamo il 22 finiamo appunto il 25 con l'ultima data dove ci sarà forse questo prosegue direttamente il 22 da stasera fino al 25 non stop allora grazie un'ultima cosa voglio dire perché il video nonostante l'abbia visto molte volte poi è una piccola sintesi lui ha pagato più di un'ora in quell'occasione vogliamo vedere a che resto dobbiamo vedere il suo film no una cosa fammela dire armati e armati vi abbiamo già detto oggi nella giornata di oggi nel pomeriggio che abbiamo vissuto è molto è molto significativo è una frase che sta nella sceneggiatura è praticamente significativa quando dice dobbiamo dargli arci più d'occhi cioè alla fine ci rimanda anche al fatto che i conflitti non sono di carattere religioso ma alla fine è sempre un problema di soldi e che quindi in questo senso anche la povertà francescana ci insegna molto grazie a Riccardo Rossi grazie a Monica Brancaccio grazie a Federica Taladri grazie a Gianluigi Osteri prima però di vedere il film abbiamo un corto da recuperare e quindi io chiamerei il regista e il direttore della fotografia se sono presenti porta a porta il film che fra pochi minuti vedremo un cortometraggio prima di di vedere appunto americano rosso di Alessandro Taladri tra l'altro non siamo in realtà neanche molto in ritardo nell'orario della sala quindi ci siamo abbastanza allora come nasce questo tra l'altro penso che Alessandro sarebbe molto lui era molto attento appunto alle nuove alle nuove generazioni penso che sarebbe molto contento di questo corto in questa serata allora come nasce l'idea allora il corto parla di un tema importante che è quello diciamo è attuale è quello dei rider quindi queste questi poverini diciamo che ci portano il cibo a casa anche sotto la pioggia e ogni fulmine quindi ho voluto raccontare un po' questo diciamo questo uomo che diventa ormai solo più una macchina in questo sistema di consegne a domicilio e diciamo che abbiamo cercato di farlo di dargli un'umanità e non che sia solo diciamo un robot che fa i lavori per noi Federico direttore della fotografia di questo film salve a tutti niente è un corto che nasce in ambito universitario in realtà stavo cadendo su me stesso scusate scusate nasce in ambito universitario però comunque diciamo che all'interno di quei limiti che sono quelli dell'ambito universitario che Martin mi puoi dire sì però abbiamo fatto un buon lavoro spero ci direte voi se abbiamo fatto un buon lavoro comunque abbiamo avuto qualche difficoltà nel senso che comunque è un corto che è girato principalmente di notte almeno io parlo per quello che è la fotografia poi magari non vi interessa però comunque sia sì le difficoltà che possono esserci a girare di notte per strada le difficoltà che dopo tutto affrontano anche quelli di cui parliamo appunto in questo corto barra più che altro in questo corto il link tra l'altro con Alessandro è molto forte perché lui l'ultima volta che è venuto al Terni Film Festival ci è venuto per parlare di lavoro lui ha dedicato proprio al tema del lavoro un film che era La febbre del 2005 e lui è venuto qui nel 2021 l'ultima volta quindi il lavoro era un tema che anche lui stava molto a cuore e che oggi poi ecco è il tema dei rider che è un'altra di quelle cose nascoste ne ha parlato Piffo ma per il resto pochissimi hanno dedicato spazio a questa realtà che sta sotto gli occhi nostri quotidianamente ma di cui poi nessuno si interessa esatto diciamo che come ho detto prima questa diciamo questo umano diventa ormai solo più un click sul telefono e non ha più quella sua umanità i suoi sogni e parla anche di sogni il cortometraggio quindi in un giorno in cui vogliamo parlare di umanità siamo contenti di vederlo allora ce lo vediamo porta a porta buona visione e grazie di essere con noi francesco divenne matto e divenne frate e divenne padre e divenne figlio e poi architetto d'amore imperfetto di arte e utopia e chi era curioso chiedeva cos'è questo sangue perché dalle mani è il sangue di un figlio e un manto di un padre di un padre e di un figlio 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 e di un figlio